Benvenuti alla ventesima edizione del premio Chivanesi Messina Nuovo Iorio. Questo nostro premio viene assegnato annualmente ad un messinese o ad una messinese che si sia particolarmente distinta a livello nazionale in un qualsiasi campo regando lustro alla nostra città, sua terra di origine. Quest'anno il premio sarà Lelio Bonaccorso, personaggio molto noto alle cronache messinesi per il suo impegno a favore della città di Messina, con un forte credo nella possibilità di rinascita di questa città, agganciato alla ricongiunzione delle radici della città con il suo passato, ma non in senso nostalgico come spesso avviene negli ultimi tempi, ma come forza propulsiva per poter avere attraverso quella che è la consapevolezza del proprio passato la possibilità di costruire un futuro altrettanto importante. E' stato scelto il dottor Lelio Bonaccorso, fumettista, illustratore e poeta, il quale, benché giovanissimo, ha un curriculum molto vasto. Allora io penso sempre che i premi, se non vengono usati per qualcosa di utile, sono solamente buoni per pettinare il tuo ego, non te ne fai niente, no? Per cui sono molto felice sicuramente di ricevere uno riconoscimento come questo, mi fa molto piacere e onore. Ma bisogna renderli concreti poi nella vita quotidiana, altrimenti io sono un favore dell'arte che abbia un forte valore nella società, altrimenti è monca, no? Arriva solamente a metà. Appunto parlando di questo, qualche giorno fa ha realizzato un'importante opera, una struttura, un pannello illustrativo e al liceo Bisazza. Ci vorrete scrivere com'era? Sappiamo che è una storia, riporta la storia di tutta Messina, dagli inizi, proprio dalla costruzione, fino al giorno d'oggi. Allora sì, diciamo tutta la storia di Messina è un po' tanta da dire tutto. E' una sintesi di tre epoche, che sono quella arcaica, quella medievale rinascimentale e quella contemporanea. Avevo l'idea, insieme alla dirigente Giovanna Messina, di realizzare qualcosa che comunque non fosse solo puramente decorativo, estetico, ma che arrivasse anche a chiunque, soprattutto i ragazzi che frequentano quella scuola, perci attirare con queste immagini, con queste narrazioni, in un flusso temporale appunto che va a incarnare queste tre ere, e divise appunto all'interno di una struttura narrativa che non è esattamente fumetto, ma comunque ha un'immagine molto, diciamo, accattivante per i più giovani. La caratteristica è che ovviamente è un pannello di 12 metri, alto per 4,20 metri, per cui ha la sua possenza, ecco. All'interno sappiamo che c'è anche una dedica speciale che ha voluto fare a Franz Riccobono. Certo, Franz è un mio amico, è un mio amico, mi dispiace molto che insomma non sia tra noi, perché non solamente a me non è tanta gente, ma anche andare nella sua dimensione, in realtà perché parcavi quella soglia era qualcosa di incredibile, però mi piace pensare che comunque lui sia veramente con noi, e mi sembrava giusto, avevo molto piacere a metterlo affacciato sulla palazzata, davanti alla palazzata, perché secondo me è lì che ci sta aspettando. Progetti per il futuro? Allora, io lavoro molto in Francia soprattutto, e devo cominciare prossimamente una produzione in Rai per un progetto televisivo, poi ho appunto questi libri che usciranno in Francia ai primi del 2025, ora a Lucca Comics abbiamo, almeno sono altri due libri che devono uscire, di cui uno con Panini, una storia di supereroe molto interessante, anche lì molto particolare sul sociale, e un'altra produzione in collaborazione con Lucca Comics, per cui sono onorato, perché io e Marco Rizzo siamo stati scelti per fare questa operazione, siamo di scala molto ampia, anche perché posso portare il nome di Messina in giro, e fargli capire che i messinesi sono persone toste e di qualità. L'organizzazione Kivanis serve soprattutto per aiutare le nuove generazioni, anche e soprattutto i bambini, per vivere al meglio. Ci può parlare un po' di questa organizzazione, come nasce, come si struttura? Sappiamo che è un'associazione internazionale. Sì, è un'associazione internazionale che nasce nel primo decennio, nel secondo decennio del Novecento, sostanzialmente al momento ha la funzione di organizzare tutte le proprie risorse, le proprie energie, allo scopo di poter aiutare i bambini in senso generale nel mondo. Il motto del Kivanis, infatti, è Serve the Children of the World, è aiutare un bambino alla volta nella sua possibilità di svilupparsi in tutte le sue potenzialità. In questo senso noi ci organizziamo attività promozionali, a volte allo sviluppo di tutto quello che è l'aiuto possibile che noi possiamo dare ai ragazzi nel mondo, che si trovano anche in difficoltà per poterli portare avanti per un futuro sicuramente migliore di quelle che hanno in questo momento. a Roma Grazie per la visione!